Musica Salve amici del Centro Meteo Italiano, prossimi giorni in compagnia del maltempo, poi netto rialzo termico per il weekend di Pasqua. Perturbazione che si muove sul Mediterraneo centro-occidentale, portando maltempo diffuso sulla nostra penisola. Piogge e temporali da nord a sud, ma con fenomeni che risulteranno più intensi su Triveneto e regioni centrali tirreniche. Neve a tratti fino a sotto i mille metri sulle Alpi. Sul finire della settimana atteso un graduale miglioramento, soprattutto al centro-sud, ma soprattutto il netto rialzo delle temperature, che si potranno anche fino ai 10 gradi sopra media. Ultimi aggiornamenti che mostrano per la giornata di Pasqua, tempo localmente instabile al nord e più asciutto al sud, dove il clima sarà decisamente mite. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti.